Sono 1.202 di cui 75 sintomatici nuovi positivi al covid rilevati in campagna ieri. 11.097 i tamponi esaminati. Sul versante ospedaliero cresce sia il numero dei ricoveri in terapia intensiva sia quello delle degenze. 1.319 più 19 rispetto a ieri. 1.223 i nuovi guariti del giorno. Prosegue intanto lo screening a tappeto nelle scuole di Salerno. L'iniziativa promossa dal comune di Salerno in collaborazione con la fondazione Ebris si inquadra in questa sinergia virtuosa che le istituzioni hanno implementato da luglio scorso in questo piano di sicurezza che stiamo adottando nelle nostre scuole. Quindi con il comune questa sinergia virtuosa si è realizzata prima con la ricognizione dei locali per garantire layout adeguati, adesso con questa campagna di screening rivolta agli allievi e al personale scolastico. Oggi Posidonia, domani con i più piccoli al Barra perché è importante partire anche dalla scuola primaria in questa azione di monitoraggio interno.